benvenuti ragazzi proseguiamo il nostro viaggio sempre a venezia l'altro grande protagonista nonché il più importante architetto del 500 veneziano si chiama andrea palladio allora in realtà palladio è un soprannome che gli viene gli viene affidato da un colto umanista vicentino si chiama trissino pallade è l'appellativo che viene dato in onore del di atena atena pallade cioè con lei che è la dea della della saggezza e inizialmente palladio lavora a vicenza nasce a padova ma lavorerà principalmente a vicenza e a venezia inizia come scalpellino come manovale e poi proprio grazie a questa conoscenza con il letterato trissino inizia ad avere una formazione un'educazione umanistica tant'è che grazie a lui compierà il suo primo viaggio a roma e qui avrà modo di conoscere da vicino le architetture di bramante di raffaello di michelangelo di studiare i monumenti classici della roma antica e di realizzare un gran numero di di disegni di piante di prospetti di sezioni e questo questo studio così approfondito dell'antichità susciterà in lui un grandissimo interesse tant'è che inizia a realizzare il palazzo della ragione a vicenza in realtà era un edificio quattrocentesco che decide però di rimodulare di ripensare andando a riprendersi quelle che erano le grandi basiliche di età romana ma soprattutto palladio viene ricordato per le ville le ville realizzate nelle campagne nella campagna veneta avere una villa era un po modo di vivere tipico dei ceti più agiati e patrizi della venezia del tempo contate anche che venezia era colpita da frequenti epidemie di peste e quindi chi poteva permetterselo quindi comprese le famiglie patrize si erano fatte costruire delle case nelle campagne venete in modo tale da allontanarsi dalla città in caso di epidemia e quindi di poter trascorrere la quarantena lontano dal centro cittadino queste ville e in realtà assolvevano a più funzioni quindi non erano soltanto considerate delle residenze di campagna dove il signore poteva dedicarsi ai propri svaghi e le proprie passioni come avveniva ad esempio per le ville in toscana o come avveniva ad esempio per le ville suburbane romane ma qui veniva anche svolta un'attività produttiva un'attività agricola e quindi capite bene che c'era la necessità di poter coniugare aspetti funzionali residenziali ad aspetti invece produttivi dopo varie sperimentazioni le ville di palladio si stabilizzano in una forma che diventerà tipica e che avrà un grandissimo successo non solo in italia ma anche all'estero soprattutto in area anglosassone dove la sua fortuna diventerà addirittura proprio importante nel corso del 1800 allora queste sono un po le tipologie in pianta delle ville di palladio solitamente come potete vedere la villa di palladio un formato quadrangolare o rettangolare il salone principale e il salone centrale che poteva essere a sua volta quadrato rettangolare o cruciforme e si configura proprio come l'ambiente principale dell'edificio attorno a cui si dispongono un po in modo simmetrico tutti gli altri ambienti abitativi e di servizio uno degli esempi più fortunati diciamo delle ville palladiane la villa barbaro costruita maser a treviso nel 1554 nel 1555 commissionato dalla famiglia barbaro in particolar modo dai due fratelli due colti umanisti di cui uno cardinale se vi ricordate l'abbiamo già citata perché all'interno vi lavorò veronese per occuparsi delle decorazioni allora vedete c'è uno spazio residenziale ed è quello centrale ed è quello avanzato il corpo avanzato e poi ci sono due sviluppi orizzontali che si chiamano barchesse le barchesse sono proprio degli ambienti di servizio per cui potevano ad esempio ospitare le stanze dei contadini oppure ospitare le stalle o magazzini erano quindi porticati e si affacciavano sul giardino circostante invece questa era la parte residenziale della famiglia già notiamo come l'elemento architettonico si integri in modo assolutamente armonioso rispetto alla natura circostante sappiamo che i committenti in questo caso devono aver avuto anche una parte piuttosto importante nella strutturazione e nella progettazione della villa quindi in accordo con Palladio proviamo a vedere la facciata da questa immagine forse un po' più chiara allora vediamo l'applicazione dell'ordine gigante Michelangelesco la presenza di quattro colonne ioniche sostengono una trabeazione spezzata e poi un ampio frontone questa immagine invece vi consente di vedere l'ambiente interno delle barchesse quindi le barchesse sono proprio degli edifici rurali di servizio tipico dell'architettura della villa veneta questo invece è il particolare della facciata l'ordine gigante quindi l'elemento di innovazione introdotto da Michelangelo come vi dicevo prima è questo uno dei due committenti Daniele Barbaro oltre ad essere un cardinale, un intellettuale era anche uno studioso di architettura infatti fu lui a tradurre dal latino all'italiano l'unico trattato antico esistente dedicato all'architettura scritto da Vitruvio e del famoso de architettura le illustrazioni vennero affidate a Palladio un altro esempio di villa è la villa rotonda detta la rotonda o villa almerico capra dal nome della committenza la committenza in questione deriva da un ecclesiastico di nome Paolo almerico è costruita sulla sommità di una collina poco fuori Vicenza ed è una villa pensata sia come abitazione ma anche come luogo di piacere e di intrattenimento qui vedete non esistono le barchesse proprio perché in realtà non nasce come centro produttivo ricorda molto le ville suburbane romane e si tratta di un edificio a pianta quadrata con una anche qui ripartizione simmetrica degli ambienti interni raggruppati intorno al salone circolare coperto da una cupola poi modificata nel corso del tempo viene detta la rotonda perché ogni ingresso, ogni facciata è caratterizzata dalla presenza di quattro pronai uno per ciascun lato che riprendono come dire il prospetto del tempio classico in ordine ionico poggiante su un alto basamento qui forse questa immagine ingrandita vi consente di comprendere meglio quanto detto questo invece è il progetto in pianta vedete il salone centrale quattro pronai con ingresse tramite scalinate che si dispongono in questo modo dopodiché Palladio lavora anche a Venezia realizza la chiesa di San Giorgio Maggiore la chiesa benedettina sull'omonima isola veneziana prospicente al bacino di San Marco e una facciata realizzata in pietra bianca d'Istria con un unico accesso anche qui applica l'ordine gigante si tratta di quattro semicolonne composite sormontate da una trabeazione con un timpano a dentelli poi vi faccio vedere cosa sono i dentelli richiama le forme di un tempio antico allora mentre nella villa la rotonda praticamente sacralizza una costruzione civile cioè trasporta il concetto tipico dell'architettura sacra in una fabbrica civile qui inserisce invece in un edificio civile dei chiari riferimenti ai templi pagani del mondo antico e lo fa in questo modo questa invece è la pianta si tratta di una pianta croce latina trenavate quella centrale è coperta poi da una cupola e poi la chiesa termina con un ampio coro questi sono i dentelli vedete sono un elemento presente sia nella decorazione interna e sia nella parte esterna poi un'altra chiesa che realizza sempre a Venezia è la Basilica del Santissimo Redentore un edificio costruito in seguito ad una terribile epidemia di peste è retta sul canale della Giudecca presenta una facciata simile a San Giorgio data dall'intreccio di più schemi uno più piccolo di ordine corinzio e l'altro più grande di ordine composito la chiesa si erge su un alto podio ha un frontone spezzato lo vedete qui l'interno è a una sola navata rettangolare ed è la rielaborazione di un modello che poi vedremo diventerà quello tipico delle chiese controriformate una navata maggiore fiancheggiata da cappelle laterali comunicanti il presbiterio si dice biapsidato e coperto da una cupola e poi di nuovo il coro infine sempre a Vicenza quando ormai Palladio sta nell'anno della morte viene realizzato questo teatro il progetto viene portato avanti dal suo collaboratore Vincenzo Scamozzi ed è la ripresa dei teatri romani con la differenza che i teatri romani erano realizzati all'aperto qui invece siamo all'interno di un teatro chiuso il cui soffitto ad esempio vede la decorazione di un cielo solcato da nubi la particolarità di questo spazio teatrale data dalla decorazione architettonica di Vincenzo Scamozzi si tratta di prospettive architettoniche che danno l'idea di uno spazio estremamente profondo quando in realtà è profondo pochi metri e che arricchiscono e rendono assolutamente unico l'immagine del teatro e con questo abbiamo finito Palladio alla prossima